Io non cerco di portare con me poca cosa perché sempre penso che sicuramente vorrei comprare qualsiasi cosa durante il viaggio, quindi sempre penso di lasciare spazio per portare con me al ritorno. Però non è sempre possibile, però faccio di tutto, sempre separo ad esempio i vestiti, dopo rivedo tutto un'altra volta per vedere cosa posso lasciare, per diminuire un po' il volume o il peso, sempre pensano in questo, sicuramente comprerò qualcosa, quindi devo avere spazio per tornare senza pagare, quindi questo. Quando ero ritornando a casa d'Italia, la persona che era lì per vedere i pesi e tutto questo, ha detto che dovevo spacciare, però ha detto no, no, lascerò qui quello che ho comprato perché non c'è tanto valore, lascerò qui o porti una mano, non importa. No, va bene, va bene, farò questa e dopo non farò più. No, va bene. No, va bene.